La principessa Caroline Louise Marguerite Grimaldi, meglio conosciuta come Caroline di Monaco, ha fatto visita nel pomeriggio di oggi al Camporoia di Ventimiglia. La principessa, che nell'aprile 1993 è stata nominata presidente dell'Associazione Mondiale Amici dell'Infanzia, fondata dalla principessa Grace, ha donato a nome dell'associazione una ludoteca per migranti minorenni, ospiti della struttura di accoglienza gestita dalla Croce Rossa italiana. Ad accogliere la principessa, giunta in città con la scorta e una delegazione monegasca, i vertici cittadini di Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza e il prefetto di Imperia, Silvana Tizzano.